In che modo i santi possono guidare il nostro cammino e la nostra felicità? Ve lo diciamo subito! E ve lo diciamo tornando indietro nel tempo, perché torniamo alla giornata di ieri in cui la Chiesa ha celebrato San Marco, uno dei quattro evangelisti, forse tra gli altri il primo, ma vi raccontiamo tutto spostandoci al centro, invitando il nostro ospite di stamattina, cioè dando il benvenuto a frate Alessandro Martelli, pastorale giovanile dei frati minori della Toscana. Buongiorno, fra Alessandro, grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno. Fra Alessandro, io lo dicevo, San Marco, primo tra gli evangelisti, tra l'altro considerato il reporter, il giornalista, perché è colui che fa il racconto più netto, più pulito, più lineare. Sicuramente sì, forse anche quello più antico, San Marco ha tinto da altre fonti, però per gli altri evangelisti è stata un po' una delle fonti di ispirazione da cui poi riprendono anche alcuni brani, alcuni passaggi. In che modo viene ritratto il Vangelo dalla sua voce? Che cosa ne viene fuori? Allora, è sicuramente un Vangelo preciso, puntuale, in San Marco troviamo descritti brevemente i passaggi, non è un Vangelo che si perde in passaggi troppo arditi di descrizioni, ma è un Vangelo molto schietto, è un Vangelo soprattutto che ci riporta un Gesù molto vicino al suo popolo, molto vicino alla sua gente, molto vicino alle persone che incontra. Ed è il primo che definisce proprio Gesù come il figlio di Dio. Su queste parole c'è tanta importanza, perché è colui che arriva al punto, che arriva ad un racconto, quello che poi ha stravolto tutti. Gesù, figlio di Dio, eppure umano come noi. Esatto, e questo è un po' ciò che dà il ritmo a tutto il Vangelo di Marco, questa affermazione che si conclude nel giorno della morte, nella voce del centurione, diventa per noi un po' il culmine, l'apice della nostra fede. È interessante vedere come la più grande dichiarazione di fede nel Vangelo di Marco sia proprio nella bocca di un pagano. Per vedere storia e modernità dei Santi come San Marco, allora ci abbiamo la nostra Grazia Sera sguinzagliata in giro per Roma. Grazie a te. Sì, ci siamo spostati all'interno della Basilica di San Marco, qui in Campidoglio. Io sono in compagnia di Don Renzo Giuliano, che è il parroco della Basilica. Grazie Don Renzo per essere qui con noi questa mattina. Buongiorno. E così continuiamo la festa di ieri del 25 aprile e cominciamo a rinnovare quest'amore per San Marco e a metterlo nel cuore dei Romani in modo particolare. Don Renzo, in questa Basilica noi possiamo ammirare delle tele bellissime del Borgognone, la cattura e il martirio di San Marco. E poi lei oggi ci ha fatto un regalo, perché vediamo ancora esposto per tutte le persone che ci seguono da casa il reliquiario di San Marco, che di solito è custodito in sacrestia, ma oggi possiamo farlo ammirare. Certo. Abbiamo tante immagini qui di San Marco, anche nel mosaico, che testimoniano soprattutto questa presenza di amore di Marco per Roma. Nel mosaico addirittura abbiamo la raffigurazione di San Marco, che mette proprio la sua mano amichevolmente su quella del Papa Gregorio IV, che gli costruirà poi la chiesa che noi vediamo. Qui noi abbiamo un reliquiario di cui abbiamo notizia in Basilica fin dal 1600. Attraverso vari reliquiari giungiamo a questo, che è un reliquiario del cardinale titolare del 1862, De Silvestri, e contiene una parte del capo di San Marco. Don Renzo, prima di salutarci, ci può dire proprio in una battuta qual è il messaggio più importante che San Marco lascia a noi cristiani? La festa di San Marco cade esattamente a una settimana dopo la Pasqua, quindi vuol dire che la forza di tutto il messaggio pasquale, di tutto il giorno pasquale, di tutta la settimana pasquale, poi ci indica la via di come poter vivere la risurrezione, la morte e la risurrezione di Cristo, il Vangelo. Grazie, grazie Don Renzo. Noi tra pochissimo ci rivediamo sempre qui dalla Basilica di San Marco, ci sposteremo nella cappellina della Madonnella. A tra poco. E noi aspettiamo che tu ti sposti, grazie, per ricollegarci nuovamente con te. Nel frattempo invece, fra Alessandro, continuiamo nel racconto del Vangelo di San Marco ed arriviamo al capitolo 5, versetto 41, dove a un certo punto c'è una frase molto specifica che è Talitacum. Alzati. Sì, una frase che per noi quest'anno in modo particolare come frati minori di Toscana è diventata un invito forte. Un invito forte perché abbiamo visto come questa frase è rivolta a una ragazza, a una giovane ragazza, nel contesto del Vangelo di Marco, rappresenta per lei una nuova partenza. Questa ragazza si sveglia, si alza e creduta morta, ridiventa viva. Noi abbiamo visto come poteva diventare un invito forte da rivolgere ai nostri giovani, che spesso accasciati, seduti nei propri pensieri, nelle proprie piccole e grandi difficoltà di tutti i giorni, hanno proprio bisogno di una mano tesa che gli dica alzati. E allora questo Talitacum abbiamo pensato di rivolgerlo quest'anno ai nostri ragazzi, è diventato un po' lo slogan di questa primavera e poi di questo evento che stiamo programmando. Questo evento, raccontaci qualcosa in più, si svolgerà a breve, a maggio, in che cosa consisterà, come si può anche accedere, come ci si prepara. Esatto, questo evento è una grande festa giovani. Ogni anno noi frati toscani concludiamo il nostro anno pastorale, quindi nella tarda primavera, con un evento chiamato festa giovani, è l'occasione per incontrarci come giovani, come chiesa, è aperto a tutti, quindi vuole essere anche l'occasione per incontrare persone nuove, movimenti, associazioni, è l'occasione sì per fare festa, quindi ci sarà musica, ci saranno luci, balli, ma soprattutto è l'occasione per ascoltare parole belle. E allora ogni anno vengono chiamati dei testimoni che attraverso la loro esperienza ci possono dare qualcosa in più di cui a volte abbiamo bisogno. Ne abbiamo visto qualche immagine, abbiamo visto la locandina appunto alzati il 14 maggio, quindi tutti pronti, le immagini che stanno scorrendo tra l'altro ci riportano a quella festa, perché come dicevi tu, c'è bisogno di una voce che nel sorriso, nella gioia, nell'allegria, ti tenda una mano e ti dica guarda che la felicità è anche per te, è quello che è successo anche a te nella tua vita, era il 2004, ed è stato proprio il Vangelo di Marco che in qualche modo ti ha dato quella voce, quella mano tesa. Esatto, ho sentito nella mia vita forte questo desiderio, c'è un desiderio di qualcosa di più, un desiderio di una gioia più grande, ho vissuto una vita bella, quindi con le mie piccole e grandi soddisfazioni di tutti i giorni, però sentivo che c'era qualcosa che mancava, c'era qualcosa che non mi dava quella gioia piena che sentivo di desiderare profondamente. E poi ecco, attraverso proprio la gioia che ho visto nei frati francescani, la gioia che ho visto nelle attività che ho avuto modo di fare con i frati della Toscana, c'è stato per me un po' quella lampadina, e se quella gioia riguardasse anche me, quella gioia ha preso un volto, ha preso un nome, era Gesù Cristo, e allora da lì è iniziato un po' tutto il mio cammino che mi ha portato negli studi di TV 2000. Ora questo passaggio ancora non l'ho capito. Evidentemente, insomma, se c'era da comunicare una gioia che avevi vissuto in prima persona, dei passi andavano fatte. Ce li racconti fra poco, nel frattempo è pronta. Grazia, grazia, ci ricolleghiamo con te. Sì, noi ci siamo spostati nella cappellina della Madonnella, proprio qui all'interno della Basilica di San Marco. Sono in compagnia di Lucia e di Suor Grazia, che è maestra delle novizie, delle figlie della Chiesa. Suor Grazia, buongiorno, buongiorno. Ci puoi raccontare cosa vuol dire per voi annunciare il Vangelo proprio qui, da questo luogo? Ecco, qui abbiamo la cappellina dell'adorazione eucaristica silenziosa. Siamo presenti dalla fine degli anni 50 nel nostro istituto. E per noi guardare a Gesù e Eucaristia significa un po' come Marco, proprio indicare il Figlio di Dio, presente ancora nella storia degli uomini. Lui che guarisce, salva, annuncia il Regno presente in mezzo all'umanità e farlo nel cuore di Roma, perché qui siamo a Piazza Venezia, proprio nel cuore della città. E' per noi una grande missione che la Chiesa ci ha affidato e che con le nostre sorelle di generazione in generazione svolgiamo. Lucia, c'è un versetto del Vangelo di Marco che ti ha aiutata nel percorso, nel tuo cammino di discernimento vocazionale? Beh, sicuramente il brano dell'unzione di Betania, dove proprio Marco, in una sua peculiarità, precisa che la donna rompe il vaso di alabastro che contiene questo profumo prezioso. E quindi questo spreco, ma questo anche donare in modo totale, in modo da non trattenere niente. Qualche brano prima, il giovane ricco non era riuscito a rinunciare alle sue ricchezze ed era l'unica cosa che gli mancava. E invece questa donna che rompe il vaso e si dona totalmente lo riconosce come re perché lo unge dal capo e quindi lo riconosce re della sua storia e re dell'umanità. Grazie Lucia. Noi vogliamo salutare le persone che ci hanno seguito questa mattina proprio con una preghiera qui dove è custodita un'icona della Madonna del Seicento proprio con una preghiera su al grazia di intercessione, di affidamento a Maria. E' un atto di affidamento a Maria che possiamo recitare insieme facendo nostre le parole di chi l'ha composta. E' un'invocazione alla Vergine alla quale si chiede proprio di venirci incontro nella sua misericordia. Vergine Santissima, in mezzo ai rumori assordanti del mondo, mi è caro prostrarmi ai tuoi piedi e rifugiarmi sotto il manto della tua materna bontà. I tempi che attraversiamo non sono meno pericolosi di quelli in cui facesti tante grazie ai tuoi devoti e da allora ti invocano col dolce nome di Madonna delle Grazie. O cara Madre, rivolgi su di noi i tuoi occhi misericordiosi, ottieni a me la grazia che tanto desidero e fa che con la grazia dello Spirito Santo possa conformarmi alla volontà del Padre e piacere in tutto al tuo Figlio Gesù. Amen. Grazie Sor, grazia. Grazie Lucia. Noi da qui vi salutiamo, vi ripassiamo la linea. Grazie a te che ci hai portato, grazie nel cuore di Roma per vivere un momento di spiritualità, spiritualità che però torna perché bastano le parole di un evangelista come San Marco che quest'oggi stiamo ricordando con te fra Alessandro per far scuotere la nostra vita. Se siamo ricettivi come lo sei stato te anche appunto nell'abbracciare quella che è stata una scelta di vita che ti ha portato ad essere frate e cercare di donare quella stessa gioia agli altri è proprio per quello. Noi crediamo che il Signore parli, parli tutti i giorni, parla attraverso le vicende della nostra vita, attraverso degli incontri anche fortuiti. Io spero che il Signore possa parlare ai nostri giovani anche attraverso una festa, la festa giovani del 14 maggio. Noi ci mettiamo il cuore in questo, ci mettiamo la nostra disponibilità, al resto toccherà al Signore fare. Fra Alessandro, l'abbiamo detto il 14 maggio, festa giovani a Firenze, come si fa a parlare? Tra l'altro è un evento che voi avete organizzato di pomeriggio, è intorno alle 6 e mezza del pomeriggio, alle 7 e mezza c'è un aperitivo con i giovani, proprio per mettersi in comunicazione con una generazione che di fatto è considerata lontana dalla Chiesa, invece per esempio a Pasquetta in Piazza San Pietro abbiamo visto che è proprio voglia di ascoltare quelle parole, magari anche un invito come questo alzati, cammina nella fede perché voi tra l'altro con i frati francescani lo dite sempre, c'è gioia nella fede. Esatto, c'è una frase di Giovanni Bosco che mi colpisce molto, cambio un po' spiritualità ma perché la ritengo molto vera, ama ciò che amano i giovani, così i giovani ameranno ciò che ami tu. Io credo che tutto passi molto attraverso la relazione, nello stare con i giovani, nello stare da, in sincerità, accanto a loro, camminare accanto a loro poi passa qualcosa di più grande e che forse grandi proclami da grandi cattedre non comunicano in quel modo. Antonella credo che abbia apprezzato, ama particolarmente San Giovanni Bosco. Io sono salesiana dentro per questo figurati. Frate Alessandro, grazie a me per essere stato con noi, lo ricordo, pastorale Gioro Vanile dei frati minori della Toscana, frate Alessandro Martelli soprattutto per averci comunicato quella gioia che scaturisce da un cambiamento di vita che può venire appunto da una semplice frase. Tutte le informazioni anche riguardo alla festa giovani se volete su Vieni e Vedi.net e in tutti i canali social. Quanto sei social? Noi ci fermiamo solo per un attimo perché dobbiamo preparare questo studio lì dove c'è fra Alessandro ci sarà un pianoforte perché sono 20 anni di Notre Dame de Paris ci sarà con noi Erminio Sinni a raccontarci il suo rapporto con Riccardo Cocciante.